Musica Musica Perché era il momento di raccontare questa industria in una maniera diversa? Tra l'altro come per la nostra federazione, la federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, era un po' arrivato il momento dopo un percorso di progetti molto innovativi per noi, anche veramente coraggiosi, dove abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo perché volevamo parlare con il pubblico, volevamo dialogarci per poter poi costruire questi progetti. La campagna Io faccio film è un qualcosa che vuole fare bene al mondo del cinema, quindi è un qualcosa che abbiamo pensato da circa un anno, tutti insieme, le associazioni di categoria, le diverse company del mercato, quindi da Universal a Warner a Fox, per creare un'attività che parlasse di tutte le persone che stanno dietro al mondo del cinema, quindi a partire da tutti gli artigiani, faregnami, elettricisti, macchinisti, eccetera, tutte quelle persone senza le quali non sarebbe possibile quello che vediamo in termini di spettacolo e di film in generale. Il film è realizzato da una serie di professionalità che si dedicano con passione, con amore e con impegno quotidiano soprattutto. Il valore del prezzo per la visione del film va a retribuire tutte queste professionalità, non solo artistiche ma anche tecniche. Il recupero di questo valore permette di realizzare nuovi film. Perché bisogna sostenere l'artigianato e quindi chi fa questo mestiere nell'ombra, tra virgolette. Io ho voluto citare anche mia nonna e mia madre perché là dentro sono la terza generazione, mia nonna per 20 anni, mia madre addirittura per 42. Una bellissima sorpresa perché finalmente qualcuno ha messo in pratica quello che poi diciamo da tanto, nel senso a volte anche tra colleghi o tra persone nello stesso settore, ma a noi non ci nota mai nessuno. E invece è bello vedere lo stupore delle persone quando tu dici guarda ho visto un film, sì c'è questo dietro. Il pubblico è quello che è più coinvolto spesso in questo circuito, ovvero sappiamo che nell'andare a comprare un biglietto, nell'andare a vedere un film, c'è tutto il primo atto di muovere un mercato, un macchinario e quindi da questo punto di vista la sensibilizzazione delle produzioni che eventualmente dovrebbero fare i conti da un lato con la parte artistica ma dall'altro con quella economica. Perché così abbiamo avuto anche l'opportunità oggi all'Uma Web Fest di conoscere tante maestranze tipo... Leonardo Cruciano. Cruciano. Uno dei più grandi effettisti visivi della tv e del cinema, per dirvi, fa o ha fatto fare The Walking Dead, quindi wow. E non ne avevamo a conoscenza di questo, quindi la campagna serve a farci capire che il mondo del cinema in realtà non è fatto soltanto di registri, direttori della fotografia ma anche di piccoli ruoli che magari tante volte non vengono gratificati per quello che realmente fanno e dicono. Non ho niente altro da dire. Perché poi c'è un i-video che conserva i film nei DVD e nel Blu-ray, quindi arricchendo il film con dei contributi extra, quindi backstage, le interviste che in un modo o nell'altro raccontino come io faccio film. E io faccio film. Io faccio film. E io faccio film. Io faccio film. E anche noi facciamo film. E anche noi facciamo film. Io faccio film! E anche noi faccio film. E anche noi faccio film. Grazie a tutti.